Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlo delle scarpa Spin Infinity. Le scarpe che ho utilizzato durante la mia Valgrosina Trail da 70 km, una scarpa con cui mi sono trovato veramente molto bene, di cui adesso vediamo insieme pregi e difetti. Iniziamo come al solito col peso. Nel numero 42 questa scarpa pesa 305 grammi. Io ho preso il mio solito 47, ne pesa 60 grammi in più. Ma iniziamo la recensura di questa scarpa come al solito partendo dalla suola. Una suola Vibram Mega Grip, studiata appositamente per scarpa. Una suola che mi è piaciuta molto, mi è piaciuta molto sia per quanto riguarda l'asciutto, il bagnato, finché troviamo fango o comunque un po' di terriccio. Se dobbiamo andare su roccia bagnata o erba bagnata, proprio evitatela. Io durante la Valgrosina ho trovato diversi punti bagnati, soprattutto di erba bagnata, e ho rischiato di scivolare tante tante volte. Non ha un comparto così grippante come mi aspettavo. Però per il resto veramente è fatta molto bene. Anche il trasciolino, quello proprio cattivo, proprio quello dove si scivola, dove è molto semplice perdere grip, lì funziona molto bene. Ed è merito della tassellatura. Una tassellatura particolarmente ingegnerizzata da scarpa, con una parte centrale di tasselli che tendono a stabilizzare la nostra corsa, una parte anteriore che tende a darci una spinta molto bella forte quando andiamo dall'avampiede, e infine una parte posteriore perché ci aiuta a diminuire l'impatto col suolo, che ci aiuta ad andare anche d'appoggio di tallone. Una suola, come dicevo, se dobbiamo usarla per gare da ultra, per gare sull'asciutto, mi ha convinto molto, che però lascia un pochino di parti esposte dell'intersuola, e questo, come sapete, a me non convince mai tanto. Passiamo ora all'intersuola. Un'intersuola in eva, a doppia densità. Un'intersuola che mi ha convinto non è una scarpa troppo alta, ha un drop di 4 mm, infatti sono 26 mm sul tallone e 22 mm sull'avampiede. Un drop molto basso, di solito le scarpe da ultra tendono ad avere drop più sui 6-8 mm, e questo particolare drop molto basso è molto interessante. Un aspetto che mi è piaciuto particolarmente dell'intersuola, che non si vede, è che all'interno troviamo un inserto in ESS, che praticamente ci permette di poter correre anche su terreni veramente molto tecnici, alla Val Grosia ne ho trovati molti, e se mettiamo dei piedi su rocce puntite non sentiremo all'interno nessun tipo di dolore o fastidio. Questa scarpa isola veramente molto bene dalle rocce che troviamo sul nostro cammino, ed è una scarpa che da questo punto di vista mi ha convinto, perché ci dà modo davvero di poterla utilizzare su qualsiasi tipo di terreno, cioè possiamo partire correndo dal collinare, salendo di quota, fino ad arrivare a trovare anche delle pietraie senza avere nessun tipo di problema dal punto di vista del contatto col terreno. E sempre l'intersuola troviamo anche un inserto stabilizzatore, che mi ha convinto, perché comunque anche quando andiamo a correre nel bosco, in cui magari troviamo rocce, radici, eccetera, anche ad alte velocità, io non ho avuto nessun tipo di problema per quanto riguarda magari lo svirgolamento laterale della scarpa. A livello di cushioning, a livello di reattività, questa scarpa secondo me ha un ottimo compromesso tra questi due parametri, perché è molto comoda quando andiamo a camminarci, se dobbiamo camminarci magari su salite o camminarci anche per diverse ore se siamo stanchi, però ha anche un'ottima reattività nel momento in cui vogliamo andare a spingere. Ma continuiamo, saliamo e veniamo a parlare della tomaia. Una tomaia molto particolare perché per quanto riguarda la parte, diciamo proprio in sé, della tomaia, quella in mesh, quella traspirante, troviamo degli inserti veramente piccoli e sicuramente avrete già capito che poi la traspirabilità non sarà al suo forte. Troviamo infatti la parte anteriore, tutto un inserto in mesh che è il più grosso, e poi troviamo altri piccoli inserti qua nella parte laterale e basta. Allora, diciamo che come traspirabilità non mi ha convinto tanto, nel senso non è tra le scarpe più traspiranti, ci sta. Non la utilizzerei mai con temperature fin troppo elevate, però considerato magari di utilizzarla ad alta quota dove più o meno c'è un pochino sempre fresco, ci può stare. Un aspetto che non mi ha convinto per quanto riguarda la traspirabilità è nel caso dovessimo bagnare la scarpa. La scarpa resterebbe bagnata a lungo, e ci vorrebbe davvero tanto tempo a farla asciugare, anche correndoci sopra. Questo però ha un risvolto positivo, ovvero che ci sono tante parti, soprattutto qua termosaldate, che danno un'ottima stabilità laterale, soprattutto sui traversi, che isolano molto bene anche se dovessimo venirci addosso un sasso, dovessimo prendere dentro qualcosa, e soprattutto che, questo lo vedremo dopo, danno anche un'allacciatura molto precisa che mi è piaciuta veramente tanto. Tutto ciò, naturalmente, oltre all'aciprotezione sul laterale, abbiamo la protezione anche sul puntale, perché la protezione, il puntale, è bello duro, è molto grosso il puntale, davvero, e non mi ha dato nessun tipo di problema, anche all'interno non ho avuto nessun dolore o unghie nere. Un aspetto che non posso farvi vedere, ma mi ha convinto veramente tanto di queste scarpa, è che essendo pensati per le ultra, scarpa ha deciso di non mettere all'interno, quindi a contatto col calzino, col nostro piede, nessun tipo di cucitura, le cuciture sono tutte esterne, e questo all'allunga ha sicuramente un vantaggio, perché evita appunto di avere delle frizioni, o comunque di avere dei punti dove possiamo arrossarci, o farci venire dei dolori, date appunto dalle cuciture. Veniamo a parlare ora della zona del posteriore, del tallone. Una zona tallonare che mi ha convinto, bella dura, bella stabile, è una zona tallonare che davvero, io non ho avuto nessun tipo di svirgolamento, non ho avuto problemi di potermi prendere qualche storta, fatta bene, imbottita molto bene, che dire, poi soprattutto la conchiglia non è troppo alta, quindi anche lì non abbiamo problemi per quanto riguarda il tallone d'Achille. Una scarpa che, anche dal punto di vista del tallone, mi ha convinto molto. Continuando, veniamo a parlare della lacciatura, visto che vi ho accennato prima. È una lacciatura molto particolare, perché il laccio passa all'interno del suo anellino, però nascosto, qua sotto. Cioè, voi non lo vedrete, o meglio, lo si può vedere se si va ad aprire, a girare, una cosa o l'altra, ma dall'esterno non si vede. È da una lacciatura che mi ha convinto, perché comunque, avendo tutte queste parti, anche termosaldate, quando andiamo a stringere pieno all'interno, viene stretto davvero molto, molto bene. È una calzata molto precisa, molto confortevole. E poi ho apprezzato, particolarmente, anche la taschina sulla linguetta, dove andare a riporre i lacci in eccesso. E per quanto riguarda la linguetta, questa è una linguetta imbottita, classica, non dà nessun tipo di problema, resta ferma al suo posto, non si muove. Mi sono trovato bene, è una linguetta davvero molto tranquilla, ci si trova bene. Infine, per quanto riguarda la soletta interna, mi sono trovato bene, è una soletta di scarpa, è una soletta che, volendo, può essere anche estraibile. Va bene, va bene. Non ho avuto nessun tipo di problema, anche con la scarpa bagnata, il piede non tende a scivolare in avanti. Perciò, tiriamo le conclusioni. Vi consiglio queste scarpe a spin infinity? Sì. Io mi sono trovato veramente, veramente bene. Su lunghe distanze, penso che sia una delle migliori scarpe che sono state prodotte, per tanti di motivi che vi sono andato ad elencare. È una scarpa che consiglierei praticamente a chiunque, magari non tanto a quel runner super veloce, che vuole avere tante attività, che vuole avere una scarpa veramente super performante, perché questa è più pensata per un'atleta un pochino più, diciamo, da media classifica, ecco. Questa è una scarpa che oltre al trail running ve la consiglio anche per fare trekking, perché mi sono trovato bene anche da questo punto di vista. Detto ciò ragazzi, io nella speranza sia stato esauramente esaurativo anche per questo video, io vi ringrazio per l'ho guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!